Lui è di Reggio, ma questo è un mistero! Siamo qui con Enrico Ruggiero e anche tu a vedere Novara Inter? Sì, sì, sì. Per chi tifi? Io sono dell'Inter, però Novara è una scuola forte, simpatica, lo stadio è bello, ci ho giocato, quindi sono contento. Quindi cosa pronostichi per questo? Non ci mai. Niente pronostici? Non mai pronostici. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Novarese Doc con Enrico Ruggiero. Sembravi di Reggio Calabria, però... Sembro di Reggio Calabria, infatti, però mistero. Mistero, grande Enrico Calabria. Ciao Enrico, ciao.